Ragazzi, eccolo! Ciao Ciro! Ciao! Oh, ma che è ragazzi? Si è venuto anche Ying, il mio amico dalla Cina. Ciao, ciao Ying! Dalla Cina dove ti preciso? Da Wuhan. Wuhan! Mai sentita? Se il 2020 fosse andato bene! E purtroppo ancora allarme vigili del fuoco. Annoiati. Australia, California, Siberia. Oltre un anno senza incendi. E sono molti i vigili del fuoco ormai che non sanno come passare il tempo. Ragazzi, ma dopo andiamo al teatro? No, Claudia, troppa gente. Andiamo a ballare? Terza volta in una settimana. Ah, no, ragazzi, ma c'è il concerto dei Bugorgan. Sì, 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 sì. Che? Oh, Ciro, i Bugorgan. Si sono uniti. Adesso sono un gruppo. No, vabbè. E passiamo allo sport. Dopo la clamorosa sconfitta contro gli Azzurri per 9-0 nella finale degli Europei 2020, la Francia ci restituirà finalmente la Gioconda. Ragazzi, andiamo dove volete, basta che non ci sia il reggettono, per favore. Ciro, ma che dici? C'è il decreto. Che decreto? Il reggettono è illegale. Eeeh, dicevi, è legale. In fine dell'ultima ora al Polo Nord fa di nuovo freddino. Che hai deciso di fare a Capodanno? Eh, sì, vado a Berlitt. Bellissimo. Ma sai, mi hanno detto che c'è un porto bellissimo. Stupendo, bellissimo. Ma in cambio! Ma che ci fai con la mascherina? Ho preso... La laurea in chirurgia, o è giù? No! C'è un po' che dice l'oscio! E così, dopo aver venduto tutti gli ori vinti alle Olimpiadi di Tokyo 2020, abbiamo risanato il debito pubblico. Salute, buon uomo! Finalmente Nolan ha girato un film che inizia, finisce e si capisce. No, papà. Tu davanti alle telecamere questo vai a dire. Sopinower era un charlatà! Ma charlatà non sarai tu! Ma ho sempre l'attrito diirti, gal. E anche stasera, per mancanza di notizie e di cronaca, trasmetteremo 12 minuti di caprette che si arrabbano. E siamo pronti ad investire sull'apertura dei porti 49 milioni. Salute! Buongiorno, scusi, quest'anno 500.000 bambini nel sud del mondo sono rimasti senza scuole, cibo e cure mediche. 500.000? Sì. Come? Non è pa... Fru! 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 Wow, Fru, ma è una bomba sto simulacoso. Simulatore storico, se il 2020 fosse andato bene. È bellissimo, tutte belle notizie e belle cose, però c'è un errore. 500.000 bambini senza scuole, cibo, cure mediche. 500.000 bambini? Devi risolvere. Ma è una buona notizia! Ma che buona notizia, Fru, guarda che... In realtà sono 370.000.000. Il 2020 è stato un anno durissimo per tutti, ma soprattutto per i 370.000.000 di bambini in Africa, Asia e Sud America che non sono andati a scuola. Il loro luogo sicuro dove crescere e mangiare ogni giorno e ricevere cure mediche. Da oltre 30 anni ActionAid realizza il cambiamento con l'adozione a distanza. Fallo anche tu. Adotta un bambino a distanza con soli 82 centesimi al giorno, perché sognare un anno migliore non serve. Il cambiamento mica si immagina, si realizza. Tieni, il cioccolato ora fa dimagrire. Mamma già buffa!